Dopo tanti anni la Calabria torna a crescere, in particolare nel periodo 2015-2017 ha fatto segnare la più significativa accelerazione della crescita. Infatti il rapporto Svimes 2018 dimostra per la Calabria un trend positivo in molti settori, in particolare per ciò che concerne la spesa dei fondi strutturali sia nel settore agricolo che in quello innovativo e tecnologico. Sono state soprattutto le costruzioni a trenare la ripresa, seguite dall'agricoltura e dall'industria, in senso stretto. Per quanto riguarda le esportazioni, secondo quanto comunicato dall'Istat, nel primo semestre la Calabria risulta essere la regione più dinamica, con più 38,7%, seguita dal Molise 34,3%, dal Friuli Venezia Giulia più 17,5% e dalla Sicilia più 15,2%. Nel nord-est l'aumento tendenziale dell'export nel primo semestre è del 5,9%, nel mezzogiorno del 4,6%, nel nord-ovest del 4% e nel centro dello 0,7%. La Calabria rappresenta sempre lo 0,9% del totale delle esportazioni nazionali, ma in termini assoluti fa un ottimo balzo in avanti, passando da un fatturato di 210 milioni di euro nel primo semestre 2017 ai 292 del primo semestre 2018, per l'appunto, con una crescita del 38,7%. Determinanti per la crescita del sistema economico calabrese sono quindi i prodotti dell'agricoltura, l'attività manifatturiera, il legno, la carta e i prodotti dell'attività di trattamento dei rifiuti di risanamento. In generale l'aumento tendenziale dell'export nel primo semestre del mezzogiorno è del 4,6%. Invece nel secondo trimestre del 2018 l'Istat stima una crescita dell'esportazione del 3% per il mezzogiorno e le isole. Grazie a tutti.